Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. Vorrei presentarvi Wakelet, che è più che una pronuncia, una speranza, uno strumento, applicazione web, che ci permette di raccogliere risorse dal web, curarle, nel senso della curation, cura dei contenuti, e creare, in questo modo, dei nuovi contenuti organizzati tematicamente, quindi raccolte su un determinato tema. Vediamo le principali caratteristiche di Wakelet, è un'applicazione web, abbiamo detto, è free, permette di collezionare e organizzare qualsiasi risorsa, cioè qualsiasi cosa sia pubblicata su internet con un indirizzo, tabelle, immagini, video, mappe, presentazioni, documenti, pdf, articoli, eccetera. Prelevarle quindi dal web, analizzarle, valutarle, e creare una raccolta su un determinato tema o problema. Questa attività può essere sviluppata o individualmente o collaborativamente, e quindi pubblicare il tutto per condividerlo. Wakelet è uno strumento interessante perché ci permette di far fronte a quello che è il più importante problema, o comunque uno dei più drammatici problemi che oggi viviamo sul web, il sovraccarico informativo. Il cosiddetto information overload, ci sono troppe informazioni, nel 2015 8 zettabyte, nel 2019 si stimano 20 o 30, addirittura non ricordo, zettabyte, una quantità incredibile di informazioni, pari, così si è stimato, a 18 milioni di biblioteche del congresso, la più grande biblioteca al mondo, quella di Washington. Altri dati parlano di una quantità di informazioni pubblicate sul web che è generata negli ultimi 4 anni, che è pari a quella generata in tutto il resto della storia umana nel suo complesso. Il risultato, come sottolineano tanti autori, da Weinberger, a Reingold, a Robin Goode, a Pierre Lévy, è la mancanza di senso, è l'esigenza di trovare degli strumenti per generare il senso sfruttando l'intelligenza collettiva e cooperativa. Ecco, Wakelet è uno strumento del genere. David Weinberger sostiene che il web è troppo grande per poterlo conoscere tutto, il web infatti è inclusivo, è vero che il web è l'ambiente in cui oggi sempre più prende corpo la conoscenza e anche le attività come le attività formative di apprendimento si stanno spostando sempre più sul web, ma nel web c'è tutto, in questo senso inclusività significa che non c'è un filtro, non c'è un'autorità indiscussa che discrimina o certifica tra quelli che sono saperi o informazioni legittime, illegittime, vere e false. Il web poi è destrutturato, non nel senso tecnico del termine, ovviamente ci sono dei linguaggi e dei protocolli altamente strutturati, ma nel senso del senso, cioè del significato, non esiste un sistema di categorie che permetta di classificare in modo univoco e universale tutte le informazioni che sono sul web. Il web è reticolare, aperto e soprattutto è un sistema di relazioni, un flusso di informazioni in continuo divenire, un fiume digitale in cui non ci si può bagnare più di due volte nello stesso punto. È relativo, come dicevamo prima, non è possibile discriminare tra vero e falso, tutti i punti di vista condividono, tutta l'informazione e la disinformazione, la verità e la falsità, fonti attendibili, fonti inattendibili e quindi è come non una biblioteca dove tutte le informazioni sono ordinate nella struttura libro e tutti i libri sono ordinati, indici per autori, per titoli, per argomenti e dove sappiamo dove andare a cercare ciò che ci interessa e dove siamo sicuri che ciò che ci interessa, in quanto è stato legittimato dal sistema editoriale, dal sistema scientifico eccetera, contiene informazioni attendibili, ma il web è più che altro paragonabile a un caos. Immaginate un esercito di demonieti dell'entropia che entri in una grande biblioteca e che decida di strappare tutte le pagine di tutti i libri, non contenti strappano tutte le righe di tutte le pagine, tutte le lettere di tutte le righe in modo da ottenere tanti coriandoli e li tirano per aria, ecco il web è qualcosa del genere, il web è una struttura aperta, non esiste una mappa del web, non possiamo col GPS orientarci, sapere dove stiamo andando, da dove stiamo venendo e dove saremo fra qualche minuto, perché il territorio cambia continuamente. ecco che diventa quindi indispensabile trovare degli strumenti che ci permettano di affrontare questo caos informativo. Con Wakelet possiamo creare una presentazione del genere, chiamiamola presentazione, può essere un articolo, può essere un approfondimento, può essere una ricerca, può essere un contenuto multimediale, in cui noi prelevando dal web delle risorse, vedete queste sono tutte risorse, immagini, video, articoli prelevati dal web, su un determinato tema, in questo caso il tema è l'acqua, la scarsità dell'acqua, li riuniamo insieme in un ambiente, dando uno sfondo, un'immagine di copertina questa, un titolo è commentando, interpretando, rielaborando queste risorse, quindi non si tratta di pubblicare sterili elenchi di link, ma si tratta di ricontestualizzare queste risorse, indirizzarle a un'utenza specifica, per un obiettivo specifico, naturalmente queste risorse riguardano, cioè sono centrate o focalizzate su un certo argomento e in questo modo noi setacciamo il web, prendendo ciò che ci interessa da questo punto di vista, è il valore aggiunto del curatore, è ciò che fa sì che la curation divenga con Wakelet e con altri strumenti del genere, un'attività di interpretazione, una sorta di ermeneutica del web, e che appunto noi possiamo commentare, interpretare, recensire, segnalare, contestualizzare queste informazioni, inserendo del testo, tra un'immagine, una presentazione, un video e dell'altro, o addirittura, vedete, modificando il testo che automaticamente viene caricato quando noi inseriamo un link, possiamo anche editare questo testo se non ci soddisfa, e otteniamo qualcosa del genere, uno stream, un flusso di notizie, informazioni, risorse, che possono essere utili a qualcuno, per esempio ai nostri studenti, ai nostri colleghi, a noi stessi, e così via. Come si vede, e come si vedrà con il breve video tutorial, Wakelet è uno strumento interessante perché è molto semplice, le pubblicazioni che noi realizziamo con Wakelet si realizzano rapidamente, e inoltre Wakelet presenta insieme a queste due caratteristiche anche un'altra importante caratteristica, ci dà qualche strumento per rielaborare queste informazioni, per non limitarci ad un lavoro di copiatura e incollatura. Prendo dalle indicazioni nazionali per il curriculum quella che è la definizione di competenza digitale, e cioè usare il computer, la capacità di usare il computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni. Ebbene, Wakelet è tutto questo, reperire le informazioni, valutarle e conservarle, contestualizzarle, commentarle e interpretarle, e presentarle in un qualche modo per poterle scambiare e condividere. Bene, occorre registrarci con Facebook o con Google, o al solito modo, io sono già registrato, quindi adesso mi loggerò e vi mostrerò come si costruisce un Wake, come viene definito. Questa è la nostra area di lavoro, qui troviamo le nostre raccolte, è una funzione molto interessante di Wakelet, è che permette di importare da Storify le storie, le pubblicazioni che abbiamo realizzato su questa applicazione, che chiuderà, mi sembra, a marzo, e quindi perderemo tutto. L'importazione è abbastanza rapida e semplice, basta cliccare su questo pulsante e seguire la procedura guidata. Vediamo come si crea una storia, basta cliccare sul più, e quindi aggiungi una nuova storia, aggiungiamo un'immagine di background, caricandola, o scegliendola tra le immagini che ci propone Wakelet, da Unsplash, adesso ne carico una a caso, e questo sarà il nostro sfondo. Possiamo dare anche una copertina alla nostra raccolta, alla nostra pubblicazione. Adesso caricherò un'immagine a caso, ecco qua, questa la ingrandiamo un po', la rimpiccioliamo e salviamo. Questa è la nostra copertina. Questo è il primo elemento, immagine di sfondo e copertina. Quindi diamo un titolo, che deve essere ovviamente sintetico, ma pregnante e significativo, e aggiungiamo una descrizione di quello che è il nostro lettore, il nostro studente, insomma, chi leggerà la nostra storia, la nostra pubblicazione, la nostra composizione, potrà sapere di cosa tratta e decidere se andare avanti. E finalmente aggiungiamo i link. I link rimanderanno a risorse, che noi abbiamo trovato sull'argomento qui indicato e che offriamo ai nostri lettori. Vediamo prima questi pulsanti, qui posso inserire dei tweet cercando per hashtag o per utente, qui posso caricare un'immagine, abbiamo già visto come si fa, qui posso aggiungere degli argomenti, delle risorse tra quelle che ho già caricato e salvato in altre storie e qui posso inserire del testo. Vediamo subito questa funzione, come vedete abbiamo qualche elemento di formatazione del testo, possiamo, che so, aggiungere un link e quindi qui incolleremo un link, per esempio io ho preparato questo link, sto facendo con i ragazzi e le ragazze il fascismo e quindi sarà un link alla scuola durante il periodo del fascismo. A cosa mi può servire questa funzione di aggiunta del testo? Beh, mi può servire per esempio per approfondire, per introdurre un argomento, per commentare e così via. Mi può anche servire per suddividere, qualora debba mettere insieme 30, 40, 50 risorse, per suddividere la mia composizione multimediale in diverse parti in modo da renderla più chiara, più fruibile. Adesso posizioniamoci dopo l'elemento che abbiamo inserito, testuale che abbiamo inserito e, io lo uso così, inserisco il mio link. È un video di YouTube, io posso anche editare il video, vedete, il fascismo in Italia e io posso dare indicazioni ai miei studenti, guardate il video e prestate attenzione, eccetera, eccetera. Quindi viene caricata automaticamente la descrizione del video presente su YouTube, ma io posso dare delle istruzioni ai miei studenti. Ecco, chiudo tra parentesi, ecco fatto, è salvo. Oppure posso inserire un articolo, mi posiziono adesso, mettiamo qui, vedete, posso inserire il post o sopra o sotto qualsiasi elemento dato, in questo caso abbiamo una voce di Wikipedia, ecco il fascismo, mi basta, lo lascio stare così, oppure posso anche decidere di spostarlo dopo il video, vedete, è sceso giù. Ecco, vedete, io qui ho aggiunto una lezione sul fascismo, ho aggiunto una mappa mentale sul fascismo, un'immagine di un giornale d'epoca e quindi ho già, insomma, dato più sostanza alla mia presentazione. Posso anche, vedete, editare qui un titolo e qui scriverò Corriere della Sera, eccetera, eccetera. A questo punto, se sono soddisfatto, posso salvare. Prima di salvare posso anche, posso anche decidere di optare, questa è un'altra presentazione di prova che ho fatto, di optare per una delle seguenti disposizioni. Si modificherà il layout, vedete, è cambiato, posso cambiarlo ulteriormente, in questo caso avrò un'altra a disposizione ancora. Adesso salvo e posso decidere, prima di salvare dopo che ho salvato, perché poi posso riaprire queste presentazioni, questi contenuti, se il mio file sarà privato, la mia pubblicazione sarà privata, quindi sarà non in lista, quindi la può vedere soltanto chi possiede il link, a chi io do il link, o sarà pubblica. Adesso lo vedo unlisted, perché chiaramente è solo una prova. A questo punto posso salvare. Aprendo una collezione già realizzata, posso guardarla, posso naturalmente condividerla, vedete, su alcuni social network, social media, oppure copiando il link. Posso anche avere il codice per incorporarla nel mio sito, nel mio blog, o secondo una delle varie visualizzazioni disponibili, vedete, sono tre fondamentalmente, oppure posso aggiungere dei collaboratori inserendo qui la mail. Questo è interessante, perché permette che so agli studenti di lavorare in gruppo, o ai miei studenti di completare una raccolta che ho cominciato io. Bene, direi che questo è tutto, siamo riusciti ad arrivare a 15 minuti, naturalmente posso anche cancellare, posso seguire altre persone e altre persone possono seguire me, insomma, come in tutti i social. Vi ringrazio per l'attenzione, vi consiglio ancora l'uso di Wakelet, anche perché StoryFive fa un po' sparirà, e vi saluto.